Paola, una comunicatrice scientifica, lavora al CERN e lavora al CERN anche Mike, è un ingegnere e si occupa di magneti, è qualcosa di molto difficile da spiegare per me. Perché siete qua? Perché qualche anno fa durante un viaggio in Barcavela, era una sorta di laboratorio scientifico per adolescenti, io facevo le riprese per questo progetto, ho conosciuto Paola che era venuta a presentare proprio il progetto, anzi è venuta a raccontare della tua vita, che insomma è super avventurosa e raccontando della tua vita avevi parlato del progetto di Polar Quest, di cui parleremo stasera, vedremo il documentario più tardi Nanook e subito la cosa che mi ha colpito è stata una tua frase, mi avevi detto che tu non fai le vacanze, o meglio, usi il tempo delle tue vacanze per delle missioni, ti piace viaggiare, ti piace scoprire, ti piace farlo in posti che sono insomma tosti da raggiungere, dall'Antartide all'Artico, giusto? Sì, giusto, essenzialmente con la formazione di giornalista scientifico, oltre a lavorare al CERN ho avuto l'opportunità di fare anche altri progetti, e siccome al CERN si lavora sulla fisica delle particelle, si lavora in installazioni sotterranee, l'avventura è soprattutto intellettuale, oppure scendere sottoterra a 100 metri, quando l'acceleratore è spento, e fare reportage o portare gente in visita. Io sono una persona a cui piace molto l'outdoor, ho sempre avuto il gusto per l'avventura, mi piace andare in barca, e grazie appunto a questa esposizione, ho fatto il master in giornalismo scientifico mentre già lavoravo, mi sono venuti in mente vari progetti, e quindi la prima cosa che ho fatto è che sono partita in Antartide, come giornalista ospide per due mesi, per documentare, attraverso dei documentari per Radio Educational e altri articoli per vari media, la spedizione italo-francese di ricerca in Antartide, che mi ha portata su una nave oceanografica per 11 giorni, poi a visitare diverse basi, Antartide è un posto molto estremo, ho meno 55 d'estate a Concordia, si sta bene, si sta, diciamo è come andare nello spazio, è quasi come andare nello spazio, bisogna veramente avere una formazione e tutta una serie di attrezzature, quindi ci si può andare solo con delle spedizioni, e da lì mi è venuto il gusto per le spedizioni, poi ho incontrato lui e abbiamo deciso di fare insieme queste spedizioni, e siccome lavoriamo entrambi full time, però abbiamo la fortuna di avere la possibilità di prendere dei congedi non pagati, circa ogni due anni abbiamo fatto spedizioni di questo tipo, portandoci dietro anche i nostri figli, siamo andati per esempio alle Galapagos, sulle tracce di Charles Darwin, siamo andati a vedere e a documentare i telescopi nel deserto dell'Atacama, a 5100 metri di quota, lui costruisce i droni e quindi... Mike, che usa i droni, lo so perché ho visto il documentario, lui li costruisce. Adesso non vale più la pena costruirli, ma per esempio, quando siamo stati a 5100 metri di quota nel deserto di Atacama, per documentare il telescopio ALMA dell'ESO, dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica, lì il drone ha dovuto costruirlo, ha dovuto fare le ali particolarmente leggere, perché a 5100 c'è pochissima atmosfera e quindi la maggior parte dei droni sarebbero cascati. L'abbiamo testato in montagna e poi ci è andata bene, abbiamo fatto delle immagini stupende di droni. Allora, chiedo subito a Mike, poi... Com'è pilotare un drone a 5200 metri? Cosa vuol dire? Can I answer in English? Yes, of course. I understand the Italians, I understand your questions, but I cannot speak it. The only problem at altitude is the density of the air. So you just need a bigger, more powerful drone, or bigger engines and bigger propeller. So a normal drone, DJI drone, will not fly. It will maybe fly to 4,000, 4,500 meters. So it's just a question of changing the design. And at the time when we did it, the drones were not so popular as now and not so good as now. Now I would probably take a standard drone, although at that altitude maybe we would have to modify it a little bit to be able to fly there. But there's a whole development. In the beginning we built our own drones, put the GoPro, and now the drones are so good that there's no point anymore. Just bring a good drone. Traduco per tutti? Dunque, la differenza di quota fra utilizzare i droni commerciali e i droni custom è più o meno su 4,000. Quindi 5,100 bisogna fare dei droni che hanno più potenza. Anche ora, questo l'abbiamo fatto nel 2015, quindi non erano ancora sviluppati come adesso, ma penso che anche adesso è necessario comunque apportare delle modifiche, perché c'è meno densità di aria, quindi ci vuole più potenza per portare sui droni. Noi abbiamo iniziato molto presto. Lui è ingegnere aeronautico di formazione, ha sempre avuto la passione per il volo vincolato, il volo telecomandato di piccoli aerei, e alla fine ha cominciato a costruirsi questi droni, e poi, seguendo me, ci ha attaccato sopra le GoPro, e abbiamo iniziato così. La nostra sala giochi, che in realtà normalmente doveva essere destinata ai figli, era occupata da 8-9 droni di dimensioni da così, fino a quelli più piccoli. Adesso però li compriamo, insomma, usiamo quelli commerciali. Droni che appunto sono stati usati anche nel 2018, quando a bordo di una barca a vela sostenibile, poi ci spieghi cosa vuol dire una barca sostenibile, siete salpati verso le isole Svalbard, alla ricerca del dirigibile Italia. Non siete partiti solo per quello, ma avete unito tre. Ho cercato di raggiungere tre o più obiettivi, però partiamo dalla partenza. Una barca sostenibile, cosa significa? Allora, Nanook è una barca particolare, perché è stata costruita dal suo proprietario, sulla base di un Integral 60, di cui hanno fatto solo lo scafo in alluminio, nei cantieri navali della Rochelle, e poi per il resto l'ha creata lui con diverse caratteristiche speciali. Lo skipper Peter Gallinelli, che è un nostro amico, che abbiamo conosciuto in questa occasione, io cercavo una barca appunto per andare a fare un progetto in Artico a vela. E questa barca è speciale, perché è costruita in particolare con l'architettura passiva, quindi vuol dire che anche andando a temperature, come è andato lui in Groenlandia, a meno 47 d'inverno, non c'è bisogno di riscaldare all'interno, perché il cockpit è costruito con materiali isolanti, senza nessuna strana tecnologia, semplicemente isolando il cockpit molto bene, utilizzando per i vetri il triplo vetro studiato, in modo tale da non dissipare il calore e sfruttare al massimo il calore di chi sta dentro. Questa è la prima caratteristica che la rende speciale, poi dopodiché bisogna trovare tutti quanti i possibili artifici per renderla più sostenibile possibile, sostenibile al 100% non è possibile, soprattutto in Artico, perché intanto ti serve il motore, perché hai un tempo limitato per la spedizione, per cui quando non c'è vento devi avere il motore. Il motore ti serve anche per uscire dal ghiaccio quando ti imprigioni nel ghiaccio, non è una rompighiaccio, una barca a vela, quindi comunque è un viaggio avventuroso, devi pianificare benissimo la rotta, pianificare le rotte oltre gli 80 è una cosa quasi impossibile, perché non esistono carte nautiche oltre gli 80 gradi, non esistono carte nautiche digitali e le carte nautiche di carta hanno delle informazioni, addirittura alcune risalgono alle prime spedizioni storiche del 1600, quindi sono misure che vanno prese e poi non ci sono misure ovunque, perché è un posto dove navigano pochissime persone. Le previsioni meteo hanno un valore di due ore e poi hai problemi di ricezione, perché persino il telefono satellitare è disturbato dal polo nord magnetico, quindi più ti avvicini alla latitudine del polo nord, a 90 gradi, meno ricevi segnali, quindi è comunque una navigazione particolare. Abbiamo voluto una barca più sostenibile possibile, poi c'è chiaramente energia eolica, c'è l'acqua di mare per lavare i piatti e per utilizzare, per fare la pasta per esempio prendi metà acqua di mare e metà acqua del serbatoio, non c'è la doccia, non c'è il riscaldamento, quindi ridurre lo spreco, sono soluzioni che possiamo applicare tutti noi alla vita quotidiana e abbiamo voluto appunto che questa barca fosse un messaggero, perché andare in Artico senza essere sostenibili, anche per scopi nobili come fare ricerca, è una contraddizione. L'Artico oggi è il centro della terra, perché è il simbolo di quello che stiamo facendo al nostro pianeta. È il simbolo di un... L'Artico è ghiaccio, è mare ghiacciato e quindi con il riscaldamento globale la prova più evidente del nostro riscaldamento si scioglie sempre di più. Uno potrebbe dire, beh, se si scioglie l'Artico cambiamo la geopolitica, navighiamo attraverso l'Artico, le rotte sono accorciate, le rotte polari. In realtà l'Artico è, così come l'Antartide, i due poli sono due zone che tengono in equilibrio il nostro pianeta. Il clima, le nostre latitudini dell'Europa meridionale centrale è stato finora temperato, quindi alle stesse latitudini, per esempio, negli Stati Uniti non è la stessa cosa, perché hanno variazioni enormi fra estate e inverno, a Chicago, New York, d'estate arrivi a 40 gradi anche prima del riscaldamento globale ed inverno a meno 20 facilmente. Alle nostre latitudini non è stato così, siamo stati in equilibrio proprio perché c'è l'Artico che ci manda una corrente del Golfo che arriva alle nostre latitudini temperata. Dopodiché l'Artico e l'Antartide sono dei posti estremi dove però gli elementi sono puri. Abbiamo l'acqua in tutte le sue forme, acqua sotto forma di liquido, acqua sotto forma di ghiaccio e acqua sotto forma di atmosfera e questa interazione fra l'acqua in tutti i suoi stati è quello che rende il clima equilibrato che evita che ci siano per esempio cicloni, evita che ci siano grossi sbalzi di temperature e quindi eventi climatici caotici o estremi come stanno succedendo sempre di più. Quindi tiene equilibrate le piogge eccetera. Quindi far sciogliere il ghiaccio Artico, far sciogliere il mare Artico vuol dire provocare caos climatico alle nostre latitudini e crea un effetto di diciamo manda in 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 peggiora questo riscaldamento, lo rende ancora più grave con un effetto di non ritorno perché più si scioglie la superficie del ghiaccio che è bianco e che rimanda il calore in atmosfera più aumenta la superficie che si scioglie quindi aumenta il calore trattenuto dal mare e aumenta la capacità del mare di sciogliere il ghiaccio quindi se si scioglie per dire due centimetri un anno l'anno successivo sarà quattro e siamo arrivati adesso a tassi di scioglimento più che esponenziali. Ah così? Sì più che esponenziali vuol dire che la curva va verso dritto vuol dire che è in accelerazione questo scioglimento e quindi con l'accelerazione dello scioglimento sono in accelerazione anche tutti i fenomeni estremi i fenomeni climatici estremi ed è in accelerazione il riscaldamento medio delle temperature globali. io mi ricordo che sempre durante la conferenza che tu avevi tenuto davanti ai ragazzi dicessi una cosa che mi colpì abbastanza perché devo andare a memoria però poi correggimi se sono inesatto che sul riscaldamento globale oggi come oggi come persone comuni forse non possiamo fare tantissimo comunque i tempi sono lunghi per rimediare mentre invece possiamo fare tanto come persone singole ma anche come stati per un'altra questione che riguarda gli oceani e che poi vedremo nel documentario perché la cosa che a me ha colpito molto del documentario è scoprire che anche a quelle latitudini si trovano le microplastiche e non solo micro anche le macro anzi è il fenomeno più evidente sì uno degli obiettivi della spedizione appunto questa spedizione l'abbiamo organizzato con Anouk era una ricerca di microplastiche campionamento di microplastiche con una rete a strascico che si chiama mantanet oppure quando le condizioni del mare non lo consentivano perché per portare questa rete a strascico bisogna avere poca onda e non bisogna andare più di quattro nodi il che a volte anzi spesso in artico non è facile perché anche se hai la barca ferma comunque il mare ti spinge il vento prendi vento comunque anche sull'albero sui fianchi della barca e vai la microplastica è una delle emergenze globali è meno diciamo è meno pubblicizzata diciamo meno discussa però è un'emergenza globale al pari del riscalamento climatico mi sento di dire avendo visto poi i dati che vengono analizzati nei laboratori di mezzo mondo perché perché è grave perché microplastica vuol dire che andiamo a minare la base della catena alimentare e quindi la base della vita microplastica sono questi pezzi di plastica che si riducono a livello con l'usura dopo anni e anche centinaia di anni si riducono di sotto di 5 mm e questi sono invisibili quindi bisogna prelevarli con dei retini speciali e poi analizzarli in laboratorio invisibili a occhio nudo ma sono particolarmente pericolosi perché finendo appunto negli stomaci degli animali marini dai più piccoli ai più grandi in particolare i più piccoli appunto lo zooplankton la base della vita minacciano la vita stessa quindi nel plankton possiamo trovare nello zooplankton ci sono non solo le microplastiche ma addirittura si vede che il dna dello zooplankton è stato modificato al punto da fare ammalare questi questi vieni più vicino che devono sentirla bene questa cosa dunque il problema della plastica è dovuto a un semplice fatto intanto che ne produciamo troppa io mi sono segnata qualche numero per non sbagliare questo è mais perché comunque allora diciamo su quello c'è un discorso lungo da fare perché il riciclaggio no è mais ah mais va bene allora quello sì va bene mais mais mi va bene però allora la plastica è stata inventata negli anni 50 è venuta fuori come una rivoluzione perché è un materiale pazzesco è un materiale eterno è davvero eterno perché appunto anche con l'usura non muore mai diventa dopo anni anni e anni di usura dovuta agli eventi atmosferici diventa micro e come ho detto la microplastica è veramente pericolosa ha avuto tantissimo successo perché è un derivato del petrolio e viene commercializzato a un prezzo bassissimo perché perché i costi oggi delle cose che produciamo non tengono mai conto del costo dello smaltimento di questo oggetto e quindi è stata commercializzata a un prezzo bassissimo ha risolto molti problemi anche negli ospedali ad esempio oggetti di plastica fabbricati a basso costo e così via però diciamo negli anni 50 quando è stata inventata se ne produceva un milione di tonnellate all'anno globalmente oggi siamo a 400 milioni di tonnellate all'anno con una crescita annuale del 3,5% di plastiche nuove non riciclate di nuova plastica che viene prodotta dal petrolio ogni anno 400 milioni all'anno vuol dire al minuto 10 milioni di tonnellate che è l'equivalente di una camionata di plastica un camion di plastica al minuto viene prodotto oggi di questa la metà è usa e getta la metà quindi abbiamo creato un materiale indistruttibile per fare delle cose che si usano una volta e si buttano esattamente dei geni allora dei geni finché non si è saputo l'effetto diciamo perdoniamo l'inizio il problema è che il grosso di questa plastica negli ultimi 15 anni è stata prodotta più plastica di quanto ne è stata prodotta dagli anni 50 fino a oggi negli ultimi 15 anni e quindi questo materiale adesso sappiamo che è fatto di questi polimeri che sono catene di monomeri che sono molto molto strette e dense che lo rendono indistruttibile e eterno ora sappiamo però che le microplastiche ad esempio sono responsabili per la morte di 10.000 specie marine all'anno specie diverse quindi 10.000 diverse specie marine all'anno e un milione di uccelli all'anno quindi sono responsabili della morte di tutti questi animali e sono una minaccia che ci pesa come una spada di Damocle sulla nostra vita stessa sulla base e quello che si può fare è per esempio decidere di non produrre più oggetti di plastica a usegetta già con questo la metà della produzione non viene più fatta cioè bisogna chiudere il rubinetto da parte nostra possiamo facilmente sostituirla appunto con le nuove plastiche fatte col mais e non ci illudiamo sul riciclaggio perché solo il 12% viene riciclata e per riciclarla comunque non tutta la plastica può essere riciclata per esempio quella di colore nero è impossibile riciclarla possono essere riciclate bene quelle di trasparenti però appunto è difficile c'è un costo nel riciclo c'è un dispendio energetico quindi a bilancio totale la decisione semplice da prendere è quella da parte nostra di non consumarla più almeno quella usaggetta e da parte dei governi di instaurare una regolamentazione che vieti da oggi in poi di fronte a questa evidenza l'uso la produzione di plastica usaggetta la prima cosa a fare allora visto che abbiamo toccato questo argomento poi torniamo al documentario alla mostra fotografica perché mi interessa parlare anche di questo ma visto che siamo in argomento ti chiedo quanto è importante visto che il tuo lavoro la comunicazione scientifica per raccontare come va il mondo oggi e come porre rimedio alle cose e se tu pensi che si possa fare di più meglio oppure se i governi come vi recepiscono allora è importante la cultura scientifica è importante perché per troppo tempo la scienza è stata considerata una tecnica o qualcosa che è appannaggio di pochi e che solo alcuni possono capire questo non è assolutamente vero perché fare scienza è difficile fare scienza fare ricerca è appannaggio di pochi ma capire i messaggi che la scienza ci porta e ascoltarli è accessibile a tutti sono semplicissime cose accessibili a tutti oggi si fa molto di più di prima io credo moltissimo in quella che chiamiamo citizen science è uno degli obiettivi della nostra spedizione era proprio quello di portare a bordo dei semplici cittadini in particolare noi avevamo ragazzi studenti del liceo che sono stati coinvolti sia nella preparazione della spedizione degli esperimenti da portare a bordo negli esperimenti da fare a bordo chiaramente una barca a vela in artico non c'era posto per tanta gente per cui gli studenti ne abbiamo avuti su tre tappe quattro al di sotto dei vent'anni e sia poi con l'analisi dei dati citizen science è far fare la scienza al cittadino quindi condividere col cittadino per esempio la misura della microplastica in un bacino d'acqua vicino casa o tanti lo fanno raccolta di plastica macro sulle spiagge per poi portarla in laboratorio oppure analisare insieme in laboratorio quello che succede a questi microanimali ma anche più grandi dello zooplankton semplicemente le tartarughe o i cavallucci marini e farli partecipare nella ricerca perché dire ex catedra io lo so e tu non lo sai io lo so perché sono in contatto con gli scienziati o perché sono uno scienziato e te lo dico e mi devi ascoltare non è un modello che funziona il modello che funziona è intanto dobbiamo recuperare il ritardo nel far entrare la scienza nella cultura di tutti io sto cercando di fare il mio col lavoro che faccio al CERN e fuori dal CERN con i libri che scrivo con i documentari che produco ma non basta bisogna veramente che l'educazione scientifica sia tanto abbia una parte importante nella scuola fin da bambini piccoli fin dall'asilo in Francia si fa un premio Nobel francese è instaurato negli asili francesi di bambini dai tre anni in su qualcosa che si chiama la main à la pat cioè le mani in pasta sono bimbi che fanno a scuola esperimenti ovviamente pensati e concepiti assieme a educatori la comunicazione della scienza è qualcosa di totalmente interdisciplinare è bella anche per quello perché lavorano insieme nel mio team abbiamo scienziati abbiamo persone con una formazione mista come la mia un po' interdisciplinare con un master in giornalismo scientifico con tanti anni di esperienza in quel campo ma abbiamo anche tecnici video editor videomaker che di scienza non sanno niente ma che lavorando insieme a noi capiscono quali sono e poi il prodotto finale è un prodotto migliore se viene da tante culture messe insieme quindi sì c'è da fare moltissimo soprattutto nelle scuole ma anche nella cultura generale avere dare più spazio parlando di cinema adesso c'è una una grande ondata si moltiplicano sempre di più i film che hanno uno sfondo scientifico per me il capolavoro rimane Interstellar Interstellar è un esempio grandioso perché nasce dalla mente di un premio nobel quello che ha preso nel 2017 il premio nobel per la scoperta delle onde gravitazionali ma che quando ha pensato questo film era in viaggio di nozze con la sua prima moglie che poi è fuggita perché è uno che in viaggio di nozze scrive il copione di un film sui buchi neri non c'è niente di male secondo me vabbè insomma in viaggio di nozze e lui lavora a Pasadena nella università di California e quindi la fidanzata che ha conosciuto dopo il matrimonio fallito era una producer di Hollywood e aveva questa fissazione c'è questo manoscritto voglio farne un film alla fine i fratelli Nolan lo hanno accolto con piacere e lui ha detto va bene allora faccio il film con voi però ha una condizione che tutta la scienza di cui si parla e si descrive del film deve essere perlomeno concepibile dal punto di vista matematico anche se non provata qua potremmo innescare una discussione accesa perché vabbè è uno dei film che a me non mi piace di Nolan però ah che meno ti piace sì perché la forza dell'amore per uscire dal buco nero no non è la forza dell'amore è il tesser act che ti fa uscire dal buco nero potrei cambiare idea no no è la scienza che ti fa uscire dal buco nero quel film è pervaso di scienza anche la fine anche la fine assolutamente sì potresti farmi cambiare idea allora poi ne parliamo tu l'hai letto così perché non hai capito il tesser act ma il tesser act per capirlo bisogna capire le formule lunghe 17 pagine però diciamo ma anche se fosse una pagina quello che il tesser act fa è che ti fa viaggiare nel futuro e quindi dal punto di vista matematico è possibile quindi dal punto di vista matematico si può viaggiare nel tempo sì avanti e indietro avanti e indietro basta la relatività instainiana per viaggiare indietro sì un po' di relatività sì avanti ci vuole il tesser act ci vuole il buco nero ci vuole una speciale condizione di buco nero che non ti spaghettifichi insomma sono tante condizioni che messe insieme ti fanno girare la testa però è speculativamente possibile e Nolan sono stati al gioco bene bene gli hanno sottoposto ogni scena sai quante ne ha tagliate c'è proprio un libro che si chiama la scienza di interstellar in cui descrivi anche tutte le scene che non ha voluto accettare sono una persona che ama cambiare idea quindi insomma i miei amici mi perdoneranno gli scienziati cambiano ogni giorno idea perché ogni giorno aumentano la loro conoscenza e quindi non neghi quello che già si sa però sai qualcosa in più ad esempio le leggi di Newton sono sempre valide perché le utilizziamo per mandare i satelliti nello spazio per lanciare un razzo si usa semplicemente la legge del moto di Newton meccanica classica però la meccanica classica non ti spiega tantissime cose non ti spiega il moto dei pianeti non ti spiega il fatto che la luce che ci arriva dal sole quello che vediamo del sole è vecchio di otto minuti non ti spiega tantissime cose la relatività è un passo in più rispetto a Newton e non vuol dire che Einstein non crede a Newton vuol dire che ha aggiunto un pezzo del puzzle diversi pezzi del puzzle ci hanno fatto capire come funziona l'universo come è nato come si forma come funziona però non è tutto neanche là perché l'universo einsteiniano è solo il 5% dell'universo che c'è di quell'universo che c'è che è la maggioranza non sappiamo nulla sappiamo molto poco sappiamo più o meno le quantità di materia oscura e di energia oscura che ci sono ma non sappiamo cosa sono queste materie oscure e di energia oscura e tu mi confermi che al CERN non non complottate per governarci tu insomma non succede nulla di strano la scienza è la disciplina più aperta dell'universo che ci sia perché gli scienziati l'unico l'unico diciamo riconoscimento che possono avere è l'aver scoperto qualcosa per primi quindi appena lo scoprono lo dicono lo pubblicano e lo pubblicano in modo tale dando tutte le informazioni in modo tale che la peer review possa dire ok mi hai convinto quello che hai pubblicato è un vero risultato scientifico quindi te lo pubblico su Nature ti do il premio Nobel la scienza è open anche perché è una è uno sforzo collettivo e allora più cervelli ci sono meglio si capiscono le cose al CERN collaborano pacificamente persone di tutto il mondo anche persone di paesi che sono in guerra fra di loro anche ucraini e russi infatti mi ricordo che quando ci siamo sentiti era a febbraio mi pare era appena scoppiata la guerra e tu mi dicevi sono incasinata perché qua dobbiamo capire sì no perché avevamo pressione dai governi per mandare via i 900 russi che lavorano fissi al CERN e quindi c'erano paesi come la Germania che spingevano per mandarli via subito e nel nostro caso il CERN è nato nel 54 proprio per evitare la fuga di cervelli verso gli Stati Uniti perché la scienza che si è fatta in quegli anni aveva bisogno di grossi strumenti che solo tanti stati insieme potevano costruire e permettersi in un unico posto e a causa della guerra mondiale a causa anche del progetto Manhattan la maggior parte dei fisici nucleari erano partiti negli Stati Uniti e quindi per fermare questa fuga di cervelli alcuni scienziati illuminati fra cui Edoardo Amaldi che era uno degli allievi di Fermi uno dei ragazzi di via Panisperna altro film hanno voluto spingere per avere un laboratorio europeo per l'Europa in Europa ma aperto al mondo e da quando è nato hanno iniziato a collaborare fra loro per esempio francesi e tedeschi che erano appena usciti da una guerra per esempio i russi che erano al di là della cortina di ferro ma venivano al CERN i primi Antonov atterrati a Ginevra portavano materiali e fisici russi per il CERN negli anni 50 e così via con la crisi serbo-croata eccetera questa guerra qua è un po' diversa perché ci sono state sanzioni e perché il CERN è un laboratorio pubblico finanziato da governi è un laboratorio intergovernativo e la governance è fatta da delegati dei membri del governo e la Germania pesa molto perché contribuisce in base al PIL si contribuisce al budget del laboratorio e la Germania sapevamo dai delegati che spingeva per mandare via i russi quindi col Council di marzo siamo riusciti a non mandare via nessuno e a stabilire come sanzione unica perché altrimenti ci avrebbero votato contro di non firmare ulteriori accordi di collaborazione con la Russia finché la guerra non sarebbe finita al Council di giugno oltre alla Germania avevamo addosso la Spagna la Repubblica Ceca e tutti gli stati baltici quindi Latvia tutti gli stati dell'area baltica e lì ce la siamo cavata grazie al governo italiano che ha fatto un lavoro enorme la prima risoluzione di mandarli via tutti non è passata per un voto e poi abbiamo rifatto una risoluzione una task force del governo italiano in cui alla fine è stata votata però con l'opposizione spagnola e con sei astenuti ma è passata lo stesso in cui si è deciso che gli accordi di collaborazione attuali con la Russia saranno riveduti a scadenza il che vuol dire nel 2025 e che se la guerra non sarà finita nel 2025 questi accordi cadono e quindi questi russi hanno almeno tre anni per decidere cosa fare adesso ho visto notizia di oggi molti scienziati russi sono perseguitati addirittura uno oggi è morto perché è tacciato di aver di aver rivelato segreti di stato ma in realtà lui lavora su ottica quantistica e ha semplicemente fatto una conferenza in Cina scientifica è stato preso dall'ospedale dove si trovava per curarsi un cancro al pancreas è stato messo in prigione ed è morto dopo un giorno perché gli hanno tolto le cure per un'accusa totalmente fuori dal mondo e questo è un movimento che Russia sta andando avanti per cui ho ancora più solidarietà per quei 900 russi che al CERN lavorano da anni e che non solo sono vitali per molti esperimenti a noi e la cui partenza vorrebbe dire è una perdita di 50 milioni di euro più o meno in soldoni diciamo ma chiudere vari esperimenti ma soprattutto per loro perché hanno firmato un manifesto pacifista e se vanno via gli può capitare quello che sta capitando in questi giorni a vari scienziati perché insomma ricordiamolo che la scienza è pacifica la scienza è pacifica è un esempio di pace dovrebbe oggi dare l'esempio appunto ti dicevo al CERN lavorano per esempio palestiniani e israeliani insieme da sempre abbiamo costruito un sincrotrone in Giordania proprio per cercare di avere di fare science diplomacy oltre che dare uno strumento utile agli scienziati del Medio Oriente perché non sempre hanno questa mobilità e i sincrotroni sono dei fantastici laboratori di scienza applicata sono dei fantastici diciamo microscopi grazie alla luce di sincrotrone che è dovuta agli elettroni che perdi accelerando particelle in un acceleratore circolare questa luce ti illumina in particolare oggetti delle dimensioni nano ad esempio cellule ad esempio virus ma anche fai ricerca su scavi archeologici su oggetti per capire da dove vengono per leggere geroglifici e così via quindi in Medio Oriente fa particolarmente senso avere uno strumento del genere e questo strumento adesso esiste ed è utilizzato da palestinesi giordani israeliani greci ciprioti tantissimi paesi dell'area Oriente Medio Oriente in guerra utilizzano questi strumenti al CERN è lo stesso esperimento ci sono gente di Taiwan e cinesi e adesso ucraini e russi loro dialogano con la scienza perché hanno capito che la diversità è fondamentale perché loro sono alle frontiere della scienza e della tecnologia sono problemi pazzeschi che hanno da risolvere come coniugare la meccanica quantistica della relatività sono problemi innanzitutto matematici enormi poi quando vuoi fare un esperimento devi inventarti l'esperimento devi inventarti lo strumento inventarti i materiali leghe per fare questo strumento pensate che LHC fa collisioni in laboratorio che hanno al centro della collisione una temperatura centomila volte più alta di quella del sole ma per far funzionare LHC occorre raffreddarlo la temperatura più fredda mai raggiunta nella nostra galassia meno 272 gradi celsius 1.9 kelvin per fare questo abbiamo dovuto costruire e inventarci leghe tipo niobio titanio e raffreddare con la superconduttività 27 km di macchina queste sono cose strabilianti che i fisici fanno ma per farle hanno bisogno dell'intelligenza di tutti questo è solo per costruire l'esperimento per farlo funzionare poi per analizzare i dati che escono dalla fuori hai bisogno dell'intelligenza di 17.000 persone non dico un numero a caso perché sono 17.000 gli user del laboratorio da 101 paesi del mondo di cui molti in guerra fra loro lavorano insieme e si scambiano i dati pacificamente apertamente e l'età media è 26 anni e mezzo perché sono tutti precari che fanno il dottorato il postdoc anche la tesi di lauree alcuni o hanno un visiting scientist per uno scienziato senior ce ne sono eserciti di questi giovani di cui una piccolissima percentuale poi resta nella ricerca e anche questo è un modo di comunicare i valori della ricerca una grossa parte va nell'industria perché non hai più borse di dottorato o posti permanenti sono pochissimi nel mondo della ricerca però anche questo è un indotto di questa scienza al mondo ti porta gente che ha visto come si lavora in questa comunità e porta questo esempio nell'industria a livello nazionale non soltanto a livello internazionale dice che se non la fermo continua a parlare no torniamo al viaggio torniamo alla spedizione alla spedizione si non è un viaggio se tu dici viaggio uno pensa è una spedizione in cui con una cambusa tutta italiana parlando di slow food avevamo lo sponsor del parmigiano reggiano i prosciutti di parma non so quanti chili di pasta io remember how many kilos of pasta da de cecco salsa di pomodoro insomma mangiavamo tanti l'unica cosa che potevi fare è mangiare io ho perso sette chili in tre settimane mangiando come mai mi permetterei ora per cui una spedizione non è un viaggio quante calorie si perdono a quelle temperature guarda non l'abbiamo quantificato cioè si bruciano non l'abbiamo quantificato perché invece del medico a bordo mi sono portata il cameraman altrimenti non potevamo avere questo documentario il medico voleva venire voleva fare anche ricerca su questo sul freddo e l'effetto del freddo il problema non è solo il freddo il problema è che sei una barca a vela tra l'altro molto spartana quella di Peter senza doccia senza acqua calda senza riscaldamento perché per quanto puoi essere in dieci nel cockpit comunque poi quando sei in turno sei fuori e quando sei fuori in questa barca non c'è un cockpit coperto come nella maggior parte delle barche a vela che vanno in artico perché quest'uomo è uomo articus ha fatto 15 anni di vela in artico e quindi non si rende conto delle persone normali come noi che dopo dieci minuti di turno e poi il turno hai il pilota automatico e quello che devi fare è a occhio vedere se ci sono iceberg che il radar non vede quindi anche piccoli perché anche piccoli possono essere una minaccia anche per una barca con uno scafo di alluminio un iceberg può essere pericoloso insomma ti può rompere qualche componente quindi se tu stai lì fermo anche se sei vestito con tutti gli strati nessuna parte del corpo scoperta comunque prendi molto freddo stando fermo e lì le calorie vanno a go go poi l'altra cosa è che i turni erano estenuanti facevamo due ore fuori e sette dentro nel mio caso le sette dentro voleva dire non solo scrivere verificare che gli esperimenti fossero a posto che la gente non avesse mal di mare ero responsabile di questi scienziati a bordo mandare messaggi col satellitare al team di comunicazione a bordo perché anche fuori da col satellitare mandavo dei messaggi della lunghezza di un tweet foto assolutamente impossibile mandarle ma ogni tentativo andava cioè bisognava provare otto volte e il messaggio lo perdevi lo dovevi riscrivere lettera per lettera quindi io queste sette ore che avevo a disposizione ne dormivo molto poche la maggior parte lavoravo e mangiavo e dopo ricapitava il mio turno oppure capitava che ci fermavamo e avevamo tipo tre ore per fare un lavoro a terra e chiaramente quando mai mi capita di essere all'ottantunesimo parallelo scendo a terra scendo quest'isola quando mai ci torno vado a documentare la plastica e quindi scendevo per cui io particolarmente ho dormito poco ho fatto molto e perso questi sette chili è una cosa insomma che magari non ci si aspetta che per scendere a terra bisogna aver fatto un corso di tiro per scendere a terra le Svalbard bisogna aver fatto un corso di autodifesa dagli orsi polari perché le Svalbard sono uno dei luoghi in cui c'è la più grande popolazione di orsi itinerante fra le isole di Franz Josef che sono un po' più a est e che fanno parte dell'artico russo e Svalbard sono 20.000 orsi la popolazione locale sono di 2.000 persone compresi i ricercatori in un'unica città Longyearbyen da cui dove si arriva anche in aereo da cui partono anche le escursioni turistiche ma sono escursioni di 2-3 giorni oppure ci sono turisti che vanno in crociera ma non arrivano mai oltre l'81esimo nessuno fa come abbiamo fatto noi arriva la banchisa polare e poi circunnaviga anche dall'altro lato approfittando del fatto che è tutto deglaciato in maniera del tutto eccezionale e allora quando vai fuori dall'abitato devi portare anche quelli che vivono in città lì vedi mamme che portano i bimbi all'asilo col fucile perché l'orso può essere ovunque si può mimetizzare ovunque e se ti attacca è un predatore assoluto che anche un orso piccolo baby di un anno facilmente ti stacca ti stacca la testa o ti stacca un braccio perché sono dei predatori assoluti degli animali eccezionali però sono anche protetti dei cucciolotti sì anche i cucciolotti sembrano teneri ma in realtà vanno temuti è la prima cosa da fare è temerli il corso consiste nella teoria in cui ti fanno vedere tutti gli incidenti perché ne avvene almeno in media un incidente all'anno di cui uno ogni cinque è mortale per l'uomo quindi ti fanno vedere il massacro che può fare un orso e poi ti chiedono quando è pericoloso quando è giovane quando è vecchio quando è mamma con i cuccioli quando è solo ed è adulto è ben cresciuto è ben nutrito oppure quando è magro quando è vecchio è malato o quando è cucciolo da solo perso la risposta è sempre questa è la teoria la pratica è la teoria ti dice anche che tu non puoi sparare all'orso finché non ti attacca frontalmente a una distanza di 30 metri il che vuol dire che hai due secondi e mezzo per colpirlo e se lo colpisci male si arrabbia di più si intanto se ti sta attaccando comunque sei spacciato ma bisogna colpirlo o al cuore o su questo osso qua all'inizio perché se lo colpisci in testa è capace che il proiettile ti rimbalza perché hanno una scatola cranica di uno spessore allucinante che sono veramente delle macchine terribili per cui la cosa è evitare questa situazione e per evitarla devi andare con dei flare che sono queste lanciarazzi che anche in barca a vela come dotazione di sicurezza quando avvisti un orso che ti sta si sta avvicinando verso di te cioè se non sta facendo nulla non devi fare nulla devi osservare e vedere cosa fa e se è possibile abbandonare se sei a terra su un'isola e hai il tender torni in barca se sei sul tender non sbarchi se invece questo si avvicina devi lanciare prima queste lanciarazzi fra te e l'orso ma è capitato a un mio amico che vive all'esvalbard da 27 anni che l'orso raccoglieva i flers e se li mangiava per cui questo mio amico che vive là oltre al fucile che è un fucile che ti affittano se non ce l'hai che è un grosso calibro è un Mauser della prima guerra mondiale tedesco con le svastiche sopra con un calibro così ma pesa 5 kg e io francamente sparare un orso in piedi in situazione di massima adrenalina e di paura immagino di tremare come una foglia sicuramente non riesco nemmeno a caricarlo col Mauser per cui questo mio amico si porta una magnum sotto la giacca quando porta in giro la gente fuori dall'abitato chiaramente quindi la prima cosa che fai è quella devi andare ogni 4 persone un fucile ogni persona almeno un flare sia da lanciare con la pistola sia quelli che si lanciano a mano ma diciamo la cosa da fare è che una persona del gruppo di 4 deve essere addetta a sorvegliare a guardare intorno lì guardare intorno è semplice perché non c'è niente non è costruito niente però l'orso si può mimetizzare come a noi è capitato lui ha fatto delle immagini da drone che ci sono state anche poi sequestrate non le abbiamo potute mettere nel documentario perché paradossalmente poi chiaramente io ogni avvistamento di orso lo segnalavo all'università delle Svalbard perché alcuni di loro sono taggati e comunque quando li avvisti vogliono saperlo per cui ogni volta che potevo anche con il satellitare o quando siamo arrivati in una base di ricerca mandavo messaggio abbiamo avvistato un orso dal tender che era totalmente schiacciato nell'unica zona bianca di quest'isola che si chiama Storoia all'ottantunesimo un'isola a forma di zuccotto sembra proprio quasi il polo di vedere il polo in miniatura e quest'orso era nell'unica zona bianca dell'isola schiacciato e quello che una delle nostre due ventenni a bordo è riuscita a vedere a occhio nudo era il naso ha detto io vedo una cosa nera che sembra il naso di un orso lo vedeva solo lei abbiamo visto col binocolo e lo skipper ha detto secondo me si può essere un orso ma andiamo un flare mandiamo un flare e nel frattempo Mike manda il drone e alla vista del drone si è alzato non so se il drone o il flare ma si è alzato in piedi ed era una cosa gigantesca sarà stato tre metri 800 chili a occhio e ha cominciato a avvicinarsi ma quando ha visto che il drone si è avvicinato si è girato e camminava piano non era spaventato perché non puoi spaventare nel trattato delle Svalbard la fauna con un mezzo meccanico perché questo è dovuto agli motoscooter che vanno in giro e se li spaventi con quello l'orso è vero che corre ma non suda proprio per mantenere il calore ha questo pelo che non è bianco è trasparente ma mantiene il calore la sua pelle è nera quindi tutta la luce che c'è va sulla pelle e la tiene calda e quindi quando corre però dopo un quarto d'ora gli viene un infarto perché non suda per cui è vietato ma noi col drone c'eravamo a una certa distanza non era spaventato camminava faceva tre passi si girava e guardava e chiaramente lui pilota di drone fra l'altro il cameraman sì sì fai queste immagini sono oro sono oro per il documentario e alla fine io ho descritto questo avvistamento quando siamo tornati dopo diverse settimane da questo avvistamento ci ha accolto la polizia locale che voleva fare un interrogatorio capo spedizione comandante della barca e pilota di droni comandante della barca e pilota dormivano io ovviamente sveglia e quindi mi hanno prima interrogato a me e ho dovuto spiegare tutta la vicenda e noi abbiamo detto guardate che mandare un drone non è una cosa stupida noi dopo questo episodio ogni volta prima di atterrare mandavamo il drone a supervisionare perché è inutile prendere rischi e scendere rischiare di far morire qualcuno o di far morire l'orso visto che volete proteggerlo è molto meglio farlo così e alla fine ci hanno fatto un processo e c'erano gli ambientalisti che erano contro di noi che volevano farci pagare 1500 euro di multa mentre il governatore ha detto no no questa cosa qui l'hanno fatta a buon fine e alla fine l'orso non correva però non possono utilizzare le immagini e se li becchiamo un'altra volta a fare una cosa del genere a spaventare un orso alla fine poi gli togliamo gli facciamo veramente una multa di 15.000 euro che è come quella che fanno a chi uccide un orso mentre non stava attaccando frontalmente perché quando muore un orso si fa un processo va il governatore con l'elicottero e vede dove è il colpo come è stato colpito insomma quindi sì è una situazione molto speciale che vediamo nella mostra fotografica alcuni sì che Mike insomma ci ha gentilmente concesso e a cui fare un applauso perché insomma abbiamo ricevuto tante critiche positive solitamente le foto a flumini muovono gli animi in negativo invece quest'anno quest'anno no quest'anno no non avevano mai visto una volpe bianca una volpe artica quella era un cucciolo quella della foto ma mutano mutano il pelo quando d'inverno sono bianche e d'estate quando non c'è ghiaccio neve sono grigie scuro Mike come lavorare scattare foto e soprattutto usare i droni a quelle temperature là hai trovato delle difficoltà particolari perché so che le batterie a certe temperature durano molto poco you talk about photography or the drones or both both ok the drones are much more sensitive because they have a short flight time and the cold is a big problem so you have to hit them on your body you put them in the pocket under your jacket always fly with a warm battery before it goes and what I used to do is fly half of the normal time that we use here for the drone so 10 minutes and come back and land on the boat of course can I translate yeah sorry all right it's a different it's a different the drone the drone is very sensitive the drone is more sensitive than the photografic with the cold the cold the durata of the battery is even more short than the that it is normally so you have to take the and have to always have a hot battery to heat the drone on the body and then fly half of the time che hai a disposizione perché così gli dai la possibilità di fare il comeback poi però c'è un altro problema col drone l'effetto latitudine l'altro problema con i droni è la distanza tra il polo e il GPS e a volte non funzionano quindi molte volte si deve cambiare al manual o si avvicina con il vento quindi c'è molti molti problemi con il drone con il commercial drone ecco poi per i droni commerciali in particolare c'è il problema del GPS più ti avvicini alla latitudine del polo e più vanno proprio in palla cioè noi abbiamo avuto un cimitero di droni l'unico che riusciva a volare era lui perché volava in manuale perché altrimenti non torna indietro perché il nord magnetico ha un'influenza sul sistema che regola il GPS del drone e quindi non obbedisce più ai comandi non torna indietro ne abbiamo persi sette i suoi no perché andava in manuale sempre in volo manuale quindi alla fine era l'unico doveva fare anche perché avevamo una ricerca di cartografia siccome quelle zone lì non sono cartografate avevamo un progetto con l'università di Roma e la società geografica italiana attraverso droni commerciali con uno speciale facendo ortofoto di certe zone si ha un'immagine in 3D della zona e poi con un software speciale hai la cartografia perfetta di queste zone non esiste cartografia di queste zone esiste solo da satellite ma è una risoluzione bassissima e invece noi abbiamo cartografato abbiamo fatto il lavoro che facevano appunto gli antichi esploratori con i mezzi loro disegnavano le carte e noi le abbiamo disegnate in 3D grazie ai droni e questo lavoro alla fine ha dovuto farlo lui perché i droni dell'università sono stati tutti persi e poi aggiungi un po' di l'inverno di fotografica la batteria della camera è molto più ma ma un po' di condizioni che sono difficilte per un'fotografia è che è sempre l'idea 24 ore a giorno è lide quindi non c'è n'è la sole non c'è la parte la grande è che si è in un po' 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 so' Si, anche per la fotografia ci sono tantissime limitazioni, una è la luce, il sole non tramonta mai, quando si va a navigare alle Svalbard non si va in estate, in estate il sole fa questo, rimane sempre l'alto, non ci sono albe, non ci sono tramonti, è come se ci fosse sempre il flash e quindi hai problemi di esposizione, poi da una spedizione da una barca a vela, uno spazio estremamente limitato, hai poca possibilità di movimento quindi devi usare diverse lenti, diversi ingrandimenti, diversi zoom e poi il freddo e quindi sì ci sono tutta una serie di limitazioni, anche la tua resistenza, se stai dormendo e c'è una scena come quella della famiglia di orsi che ti capita, è chiaro che non te la perdi e ti svegli però c'è anche la stanchezza, insomma. Invece volevo sempre chiederti Mike se, che effetto ti ha fatto vedere le foto nel grande formato e se ne hai rivalutato qualcuna, magari qualcosa che non ti piaceva invece ora... What was your impressione, to see the photos printed so large? And if you got surprised, maybe, by some of the photos, that you hadn't imagineded, they would be nice? I've seen some of the photos already, because we had other expositions, so there was no surprise to see them bigger. But there were some new ones that you chose, which were kind of photos that I hadn't seen, how nice they were, how beautiful they were. For example, the one with the little bear in the middle. That was a nice surprise for me, to see it in big and like that. Sometimes you don't see your own pictures anymore. I need always a few months away from my own photos to be able to choose them. It's a difficult job. So it's nice that you also had a little bit of influence on that, yeah. So some of them were quite a nice surprise, positive surprise, beautiful. Vederle ingrandite non è la prima volta, perché abbiamo avuto altre esposizioni. Quello che l'ha sorpreso di più è la tua scelta, perché alcune delle foto, per esempio quella dell'orsetto cucciolo solitario sull'iceberg, lui non l'aveva vista fra le sue foto, non l'aveva... E quando scegli le tue, le proprie foto, intanto devi far passare un po' di tempo prima di rivederle, e poi comunque perdi delle cose, come ad esempio la scelta che hai fatto tu ha avuto una sorpresa positiva, insomma, nelle scelte che noi non avevamo visto. Bene, sono tante le cose che vedremo. Io non volevo anticipare troppo del documentario, perché comunque tra un'ora e mezzo lo staremo guardando. Sono tanti gli esperimenti che avete fatto, anche la parte storica è molto interessante, però quella non la vorrei proprio raccontare adesso, anche perché poi avremo un piccolo confronto alla fine, in modo tale che il pubblico possa fare qualche domanda. Ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista, quindi un'opinione in questo caso, o se esistono dei dati scientifici che ci puoi citare meglio, in che direzione stiamo navigando, come a livello ambientale ovviamente? Eh no, male. Nel senso che i dati scientifici ci sono, sono tanti, ma i tempi di reazione sono lentissimi. Abbiamo da tanti anni tutte le argomentazioni, tutte le motivazioni per cambiare. Il problema è che cambiare è difficile, e poi secondo me il problema vero è che i meccanismi di chi ci governa, c'è troppo distacco fra chi governa e il cittadino. In paesi come la Svizzera forse le cose vanno un po' meglio, perché è una democrazia che funziona molto con il referendum, c'è molta partecipazione del cittadino alle decisioni, e c'è la capacità di influenzare le decisioni, e poi loro, tieni presente, cambiano il governo federale ogni anno, dura solo un anno. Molti svizzeri non sanno chi è il loro presidente, perché cambia così spesso apposta che non lo sanno. Quindi sì, quello che mi spaventa è proprio il ritardo nei tempi di reazione, il fatto che molte soluzioni ce le abbiamo proprio in faccia davanti, e non le applichiamo, per cui sicuramente la qualità di vita per noi che abbiamo figli, che avremo nipoti, non è good news. Noi possiamo ancora, per gli anni che ci restano, continuare a godere del pianeta, ancora arrabbattandoci un po' con il caldo e con tutti gli effetti del caldo, che il caldo eccessivo ha sulla salute e in generale sulla qualità della vita. Però io mi preoccupo molto per i nostri figli e per i nipoti, per chi nasce oggi, perché i tempi di reazione sono super lenti. E magari quando avranno 15-20 anni vedranno Andaras a gennaio, che sarà l'unico mese in cui possiamo uscire fuori e... Sì, insomma, scenari di quel tipo non sono assolutamente esclusi. Quello che mi conforta è che nei giovani, io credo molto nei giovani e nella loro intelligenza, che supera sempre quella dei loro genitori, e quello che vede intorno a me sono giovani, sensibili, coscienti, capaci di, per esempio, questo movimento dei Friday for Future, queste cose che io nella mia adolescenza... Sì, in effetti io volevo, ero più idealista che attivista, volevo sempre andare in bicicletta, non ho preso la patente fino a tardissimo, perché per me dovevo spostarmi in bicicletta o windsurf. Questi erano i mezzi di trasporto accettati. E poi regimentavo molto gli abiti, per esempio utilizzavo sempre tipo tre paia di pantaloni in inverno e tre vestiti d'estate, perché avevo una sensibilità molto spiccata sullo spreco, secondo me già riducendo gli sprechi, uno poteva fare il suo. Però non mi sognavo mai di essere un attivista, era più una filosofia mia di vita e un po' di idealismo. Invece i giovani di oggi sono tutti molto consapevoli, molto impegnati e molto intelligenti. Anche fra i giovani scienziati c'è un enorme, i giovani imprenditori c'è un enorme interesse, quindi forse sono loro che salveranno il pianeta. Beh, speriamo. Sicuramente non saremo noi, non quelli della mia generazione o di chi mi ha preceduto, probabilmente. Se ognuno di noi è cosciente, fa il proprio, è già un grande passo. Speriamo, speriamo. Paola e Mike, io vi ringrazio per questa chiacchierata e rilancio l'appuntamento a dopo, quando vedremo Nanook. Sì. E secondo me sarà un buon momento per ricevere delle domande dal pubblico, perché potranno farlo avendo visto la vostra spedizione. Va bene. E nulla. Quindi grazie mille di averci fatto compagnia. Grazie a voi per averci invitato. Grazie. Grazie. Grazie.